Cari amici di Langue Sport, bentrovati da Unafricolucci e qui da Noi Cattaro. Oggi si parla di un prodotto dalle eccellenti proprietà elastiche e reattive. Si parla della nuova ASIC Starter Age. Si può certamente dire che si corre come il vento con queste scarpe da corsa ad alte prestazioni. Scarpa intermedia, con un peso corporeo da superleggera. Una scarpa per veri puristi della corsa, progettata appositamente per offrire una sensazione di incredibile leggerezza per ogni tipo di utilizzo, dalla pista alla strada e su ogni distanza di gara. Progettata per aiutare il raggiungimento del proprio personal best, queste scarpe da corsa Tartarage uniscono stile, comfort e stabilità. Con un design elegante, con un look contemporaneo, le scarpe ASIC Starter Age ti permettono di avere le molle ai piedi grazie alla soletta in superheva che fa tornare immediatamente la scarpa alle condizioni originali, ovvero a un ritorno di energia sensazionale. Inoltre, la struttura 2SOL offre flessibilità e trazione, lo vediamo, per aiutare a correre meglio con più performance, mentre il contraforte interno nel calcagno migliora la calzata per un comfort maggiore. ASICS ha inserito anche la tecnologia Flight Phone Propel, una struttura in schiuma leggera con elastomero, per una elasticità eccellente e uno stacco senza pari. La tomaia, realizzata in tessuto Jacquard, per consentire al piede una traspirazione ottimale, questa scarpa resistente è dotata di tassero nel calcagno Ha-Haar, modellato per ridurre lussura eccessiva, giustamente quando si corre in pista e anche su asfalto, e anche di tecnologia Trastic System per grande stabilità a ogni passo. Che l'utilizzatore sia un runner competitivo, un semplice purista della velocità, o un runner che ama sfidare se stesso per battere il proprio tempo migliore, le scarpe intermedie ASIC Starterage sono una scelta dinamica per un aiuto al raggiungimento del proprio traguardo, con molta facilità. Larghezza standard, tecnologia Flight Phone Propel, 2SOL leggera, tassero nel calcagno e in Haar sagomato, con traforte interno, modellato a caldo sul calcagno. Lavorazione California, soletta in Supereva, tecnologia Trastic System. Peso scarpa uomo, appena 195 grammi, con un differenziale di soli 12 mm. Venite a provare questa grande scarpa intermedia di ASICS da Runway Sport a Necattolo, con la migliore consulenza di Onafrico Lucci, che vi saluta cordialmente. Seguiteci su RunwaySport.it Ciao, a presto!